Allora, oggi oggettivamente la raccolta differenziata per tutti quanti noi è molto difficile da essere implementata e questo è un dato di fatto. Abbiamo la necessità e in realtà grazie alle istanze che vengono fuori da tutto il mondo di favorire quello che è il riciclo e il riuso. Io sono qui naturalmente a rappresentare soprattutto i cittadini in quanto sindaco e in quanto rappresentante di un'organizzazione come ANCI. In che modo si può pensare di fare questo tipo di agevolazione? Attraverso forme di incentivazione che ci vengono richieste dal mondo dell'industria, ci vengono chiesti quadri normativi che sono in qualche modo più chiari rispetto a quelli esistenti. Però non è nemmeno possibile il venerdì essere Greta e il sabato essere favorevoli agli inceneritori. È quindi necessario mettersi tutti quanti al tavolo, un tavolo interistituzionale che possa favorire le politiche che in qualche modo sono politiche di economia circolare, ma che tengano soprattutto di conto di quanto la parte ambientalista deve permeare all'interno di tutti gli aspetti, dal ciclo produttivo a quello che poi in ultima istanza è la modalità con la quale tutti quanti i cittadini ogni giorno devono esercitare la capacità di riciclare i materiali.